Sei proprio uno strunz eh? Ma cos'è? Il santo graal questo masso ha tutto Tieni questo coso, sei gigante Almeno tu mori e via Io qui ragazzi devo essere The God Porco 2 che ti hanno appreso Minchia Ciao a tutti nini benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua tornati su ma No, no Siamo già partiti malissimo Siamo tornati su Clash Royale Ed oggi oltre a fare il video dove giocherò E proverò a raggiungere sta cazzo Di arena monte cinghiale Invece che l'arena leggendaria Volevo farvi vedere la partita ragazzi più epica Che io abbia mai visto Ed è mia ovviamente Ma peraltro Io non so come ho fatto a non perdere ragazzi Voi mi direte voi Come ho fatto a non perdere Qua nel clan c'è ancora il mio replay tra l'altro L'avevo anche registrato da telefono Perché l'ho fatto stanotte Mentre giochichiavo a caso al telefono E prima mi venga detto ragazzi Sì sono ancora alle stesse coppe Non ho giocato Guarda a caso giochi mentre registri Sì ma Oh Stavo dicendo che Infatti non sono usciti video di Clash Royale Perché in questi giorni non ci ho giocato E in questi giorni sono stato di ritorno da Roma Eccetera eccetera Ero un po' giù tra virgolette Moralmente E quindi niente Oggi mi sono un po' tirato su di morale Ho detto oh Prendiamo il cazzo Facciamo diventare duro E registriamo E giochiamo Insomma stavo dicendo che ragazzi Questo replay è the god Lo guarderemo Tutto a velocità per due Però Lo commenterò a velocità per due Quindi dovrei essere molto veloce a commentarlo Allora la partita È iniziata Bene per entrambi E io vado qui Guarda adesso partirò di Domatore E archibuggere Cioè moschettiere Tra l'altro Na merda Perché se in teoria Il moschettiere veniva attaccato per secondo Invece per primo Ha buttato giù la torre Lui fa più o meno la stessa cosa ragazzi A destra E in teoria rimaniamo entrambi Con la torre Praticamente alle pezze al culo Cosa succede? Poi qua ovviamente ragazzi Io vengo trollato Inculato E lui non prende nemmeno la torre E poi ce la prendiamo a vicenda Con due graderi incredibili Lui ha tirato una furia Secondo me un po' sbagliata Altrimenti faceva molto più danno a quella torre E quel danno sarà importante Tanto lui dispensa un po' di danno Un po' su tutto Io provo a fare qualcosa Ma con scarsi risultati E qui faccio un po' di danno Lui qui lasciala Forse L'ha lasciato un po' troppo Io ragazzi La Valkyrie ce l'avrei tirata Su quel moschettiere Ma lui ha deciso di non farlo Ho preferito farla lì Niente poi inizia ragazzi La corsa alla vittoria no? La scintilla io la vedo Qui intanto perdo un po' di lisir Quando vedo la scintilla ragazzi Impazzisco io Cioè guardate lì Cioè io Quando io vedo la scintilla ragazzi Inizia a giocare di merda Non che giochi bene Ma ogni volta che la vedo ragazzi E' finita Qua Ok ragazzi Qua possiamo iniziare a guardarlo piano No ancora no Ok qua vediamo due scintille ragazzi Qua Va bene E io qui già mi sto facendo disegnare la croce Nel frattempo riesco comunque a dispensare bene il danno E succede che lui ragazzi Lascia andare quel log rider da solo E fa un botto di danno quel log rider Guardate ragazzi adesso Fermi tutti La mia torre ha 53 vite Lui ha lasciato andare il log rider sulla sua torre centrale Sperando di vincere Ma non ce l'ha fatta Cosa è successo? La mia torre ha 50 vite e la sua 64 Guardiamolo piano piano Ovviamente qui la scintilla muore prima di sparare Se non sbaglio Esattamente Il mago qui ovviamente muore E qui ragazzi sto remando Sto tirando il cannone per farlo cera sul cannone Il moschettiere Lui sto sperando che insomma Io riesca a sopravvivere Tiro log rider dicendo Cazzo lo tiro Lui non farà niente Che proverà a vincere E mi ha tirato il boscaion Il momento in cui tiravo questo Se lui tira un colpo Dico ho vinto Tira un colpo Tiro la fireball E faccio Tiro anche la tronco E sono a posto No No Perché la tronco fa 100 danni O 106 Qui ragazzi mi cago addosso Perché lui tira log rider Cioè io qui ragazzi Devo essere The god In tutte le maniere Ok E ce la faccio Cosa succede ragazzi Adesso la cosa più bella del mondo Lui tira quello Io ragazzi non so che fare Tiro la tronco Sperando di vincere E qui ovviamente La sua torre va a 10 E lui mi dice Bella giocata Perché hai perso Ed effettivamente Non vedo come io possa vincere In questo momento No Sì ok Ho la fireball in mano Ce l'ho già Vedete lì cliccata Ma il punto è che c'è il gigante royal qua Io il cannone non ce l'ho ragazzi E qui ragazzi Succede una cosa bellissima Il suo colpo parte ragazzi Guardate il colpo del gigante royal parte Cioè no scusate Il colpo del gigante royal Non sta partendo Ok è partito ragazzi È partito il colpo del gigante royal qua Ok E guardate dov'è ragazzi Il colpo del gigante royal Sulla mia esplosione di palla Cioè ragazzi Non so se capite bene Dov'è il colpo del gigante royal No Non ci credo ragazzi Cioè cos'era del torno Non l'ho vista nemmeno nella partita L'ho vista ieri sera E ho detto no Non ci credo Cioè ragazzi Non so se Ma lo vedete ragazzi Secondo l'ho fatto ieri sera Manderò una foto al step Di questa scena Perché è una scena Veramente incredibile Io ragazzi Credo che una vittoria così vicina Alla sconfitta Non sia mai stata fatta Cioè ragazzi Più vicino di così Ero morto Cioè se Se c'era un millisecondo in più Avevo perso Ragazzi Mi sento di dire Che questa è la partita Più figa Più bella Ma non per com'è giata Ma per com'è finita Mai esistita E comunque Vi lamentare Della gente come me Che all'erare all'otto Quasi tutte Le comuni al dieci Quasi tutte In arena nove Barra dieci E poi c'è la gente Che all'erare al nove Quattrocento rare Della stessa carta Cioè nemmeno Se ci provo Oggi raga Tra l'altro Ho due mazzi Anche da provare Vorrei fare Altro due partite Comunque In questo video Volevo farvi vedere Ragazzi Che la partita Vabbè The god E volevo fare una partita Con questo mazzo qua Consigliato dal ragazzo Del clan E quest'altro mazzo Uguale Consigliato dal ragazzo Del clan Ma prima ovviamente Apriamo sti bauletti Di merda Non c'è niente Non ti andano nemmeno più Oramai lorda dei goblin Oramai Mai più Va bene Non vi arrabbiate però Andremo a giocare Prima con il mazzo E ragazzi È super costoso Tra l'altro È molto simile Al mazzo Che avevo visto Nel replay Che avevo contro di me Che mi ha abbastanza Cagato in faccia Durante la partita Però Però diciamo Che ha queste due Queste due cose in più Che l'avrebbero fatto vincere Vabbè Facciamo Facciamo una cosa del genere Porco due Ho detto Ho detto Adesso faccio ragazzi E vabbè Cioè Vi rendete Non ti ho detto Vabbè Cioè Dire o gioco di merda Sarebbe farmi Un gran complimento Cioè Non un complimento Un gran complimento Sarà che questo Sicuramente Non è il mio mazzo Sicuramente Giochiamo con questo Che forse è meglio Questa ragazzi È stata veramente Incredibile Devo ammetterlo Devo fare gli applausi A me stesso Sono riuscito a perdere In questa maniera Cedere incredibile Qui questo mazzo Va giocato con calma Serafica Sicuramente Lui giocherà a sinistra Adesso è che è simpaticissimo Non sta facendo niente Uuu Bellino questo Facciamo questo Ok Facciamo questo così Zack Ok Vabbè Non è andato male Poteva andare anche peggio Tiriamo questo raga Che è molto carino da tirare E adesso Vediamo un po' Se è divertente Anche Fare tutti sti danni Vediamo un po' Zap 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 Ok Zap 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 Ok Vabbè Abbiamo fatto un po' Di danno Tanto adesso Non gioca niente Il danno Lo prende Facciamo anche così Va bene Facciamo così e così Adesso fa qualcosina Tipo scheletrini E robe varie Porco Due danno ha preso Minchia Madonna mia Dagli la botta Pam Ragazzi Sto principe oggi È on fire Ragazzi Quel principe Non qualcun altro Proprio quello lì Ok Vabbè Lei intanto fa danno A me ragazzi Se fa anche due o tre Bombe di danno A me va benissimo Loro dovrebbero fare un bordello di danno Pum 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 E via tutto Bene Allora adesso Io giocherò assolutamente i barbari scelti Da qualche parte Io farei questi sgheletrini qua Con calma E si avvicinano alla torre Dove farli a destra Perché col minatore Ragazzi È comunque buono Farlo Vabbè Vabbè facciamo E perdiamo una torre a testa Se tu giochi a destra Vabbè Facciamo che tu perdi una torre Va Uh bella questa raga Facciamo una fireball così Fireball così Velocemente Boom Ok Buono E così E così va No Guarda lì come va Un altro colpettino Tac Vabbè A noi ragazzi Ci è piaciuta questa sequenza Lui ha usato 9 elisir Io 10 ovviamente Però lui ha perso 1000 vite alla torre Io Zero Ovviamente E per di voi Siamo ancora a mio vantaggio Mi fischia anche un orecchio Tra l'altro Uh bello Questo ci piace Ci piace Ci piace Ci piace Ci piace Scoppiare tutti Ok E fammo questo qua così Va bene Io faccio questo qua così Con calma Qui ho già fatto male io Ovviamente ragazzi Ma ad altronde Nessuno è perfetto Io meno di tutti Ovviamente Lui lì muore molto easy Va bene E io direi di fare ragazzi Un minatore qua E questi qua Ok Questi qua Va bene E poi vorrei fare una sfera Infonata qua così Va bene Colpito una volta Boom Siamo tutti contentissimi Pam La storia è andata giù ragazzi Non so nemmeno io Come Spettacolare ragazzi Spettacolare Facciamo questo qua così Va bene E prepariamoci a zappare Tutto qua così Così No Mi ha fregato Mi ha completamente fregato Ma il tempo è passato E oramai E l'hai preso al culo Abbiamo vinto ragazzi Tra l'altro Ho giocato bene all'inizio E male sul finale Perché ho detto Ho la vittoria in pugno Il cazzo Non ho la vittoria in pugno Mai Però lasciarvi così Sicuramente avrò tagliato Un sacco da sconfitta Ho fatto Avrò tagliato un sacco di replay A sto punto Famone in art Ragazzi Sempre con questo mazzo Avete capito Che è più nella mia linea No A me ragazzi Il principe piace tantissimo Come carta Ok Loro due dietro ragazzi Non fanno mai male Ti ho gli scheletrini Ok Ok Te sei andata giù Corri Madonna mia Quanta roba che hai fatto Si proprio uno strunz Vabbè facciamo questo raga così Qua così Sac via tutto Ok E qui sarà una sfida epocale Tra stregone e stregone Un altro colpettino Va benissimo Così l'umore della freccia Siamo a posto Sì sì Frecciozza Tac Ancora Aspetta aspetta Scarica Zap Tac Eh Cosa Vabbè Facciamo finta di niente Facciamo che questo adesso Va qua così Il gigante facciamo E non fa molto danno E facciamo anche A questo punto Sono anche abbastanza avanti No Come roba Tiriamo questi davanti al principe Magari Magari fanno robe Ok Bobom Va bene Adesso gli scheletrini Però non li puoi fare Bello Eh Se fai gli scheletrini Sei un campione Cioè Nel senso Zap Così Quella va giù Lui rincorre ancora Ragazzi Rincorre 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 Colpisce Mamma mia ragazzi Due colpi di principe Vabbè raga Ma cos'è Il santo graal Questo masso Ha tutto Facciamo adesso Tanto lui si giocava Qualcosa sulla principessa E se ce lo giocano Siamo contenti Perché arriva il minatore Che colpisce Come un fabbro Mi sa che lui Si è un po' Erreso All'eve 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 Non lo so Nemmeno a cosa Però si è reso Facciamo questo stregone Elettrico così Lui ovviamente A distanza di una fireball Quindi vabbè Lasciamo perdere Quanto cavolo Perde Dopo non ha Non ha Eguali La quantità di sconfitta Che fa lui Facciamo io direi di fare ragazzi Questo con questi conditi qua Proprio così Messi tipo Sale No tipo Salt by Colpisci Boom 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 E vabbè E purtroppo arriva la La fireball Purtroppo Che ci fanno fare Questi tre corone E vinciamo così Un'altra partita Incredibile Col principe Ha fatto uno Sfrascello di danni Tra l'altro è forte Anche se glielo butti Lì Proprio così Sul gigante No Gli dici Tieni Tieni questo coso Sul gigante Almeno tu mori E via Tra l'altro Novità Cuneiforme Non c'è più Come vedete La sfida classica Perché ho fatto due episodi Ho fatto sette vittorie Ma l'ottava Mi pare di averla fatta Se non sbaglio Forse ne ho fatte solo sette E ne ho perse Poi tutte la fida E ho detto Vabbè Non lo cario Perché è un video un po' tristino No? Poi ho visto Non vi piaceva nemmeno quella serie Pardon Scusate Va bene Io ogni dico Comunque Spero che il video Vi sia piaciuto E voi vi state dicendo Ma il buio della corona Sbucci Dovevi farcelo vedere da lì Vabbè Lo vedete nel prossimo video Nel senz'altro è lo stesso Perché tendenzialmente Registrano magari Che ne so Due video di Clash Royale Di fila Solitamente E poi usciranno Distanziati nella settimana Però un bel pollice in su E un commento Fanno sempre bene Iscrivetevi al canale Passate anche nei miei social Che sono qua sotto in descrizione Facciamo che al prossimo video Per questo vi è tutto Ciao amini Ciao amici Ciao amici Ciao amici Ciao amici Ciao amici Ciao amici Ciao amici